Non mi piace parlare di arbitri, è una cosa che proprio non mi piace fare e vi spiego anche perché, ma parlare di VAR è un po' diverso. Fiorentina-Napoli ha dato tanto da discutere e da dire su questa VAR. Innanzitutto facciamo subito il punto per come la penso io. L'arbitro è uno che può sbagliare, l'arbitro è uno che corre con te, l'arbitro è uno che fatica con te, l'arbitro è uno che può avere la giornata no. Va benissimo tutto. La VAR è diverso. La VAR abbiamo degli assistenti messi lì, seduti, che non stanno sudando, non stanno faticando, non stanno ansimando e dovrebbero essere ben pronti a vedere l'errore o aiutare l'arbitro. Non è successo a Firenze per Fiorentina-Napoli. Ovviamente parlo del rigore di Mertens. Ero qui, l'ho guardata da qui, da centinaia di chilometri di distanza e subito mi ero reso conto che qualcosa non andava. Ovviamente non potevo avere la stessa sensazione dell'arbitro o dei varisti che hanno 5, 6, 7, 8, 10 schermi, ma subito avevo capito che non era chiaro come rigore. Adesso se l'ho capito io qua con la mia televisione, con la mia connessione, come hanno fatto a non capirlo a Firenze? Come hanno fatto l'arbitro? L'arbitro ci sta, però ci sta pure che la VAR, che ha la VAR, dica, senti, guarda, noi non siamo convinti, fa una cosa, vai, decidi, prendi, però dai un'occhiata in più. Hai bisogno in questa occasione di dare un'occhiata in più perché non è chiarissimo. Non è una chiara azione da rigore. assolutamente, non è un chiaro fallo da rigore. Quindi vai a guardarlo, dopo se lo guardi sono fatti i tuoi. Non ci vuole molto. È un buon senso da tifoso, da spettatore che abbiamo avuto tutti in quel momento, anche chi era a Napoli, anche chi tifa a Napoli, perché a te danno il rigore e puoi essere contento. Però alla fine se quel rigore un po' non c'è, non è che ti lascia bene, perché anche il Napoli avrebbe voluto vincere benissimo anche senza quel rigore. Quindi il fatto di avere la VAR, io sono a favore ovviamente della VAR, va bene, va benissimo, ma deve aiutare l'arbitro, perché se la VAR ha due pesi, due misure per differente partite, è un problema, è un problema, può contaminare assolutamente tutto l'ambiente, questo non deve succedere. Abbiamo visto a Parma un gol, un bellissimo gol annullato a Ronaldo, dove è questione che forse aveva un capello in fuorigioco, che secondo me quel rigore, devo dire la verità, e parlo da interista, che lo sappiate, io sono interista, ma quel gol di Ronaldo non andava annullato, perché secondo me era in linea, il giocatore è in linea, non può essere un capello, un dito, quello è proprio, chi ha fatto le regole ai tempi, era proprio una questione, sei in linea, non c'è luce fra te e l'altro avversario, per cui, però qua stiamo a giocare sui centimetri, millimetri, se vale per tutte e due le squadre va bene. A Firenze, tornando a Firenze, come fai a dare un rigore del genere senza andare a guardare la VAR? Perché se tu lo dai dopo che hai guardato la VAR, allora tutto si sposta verso l'arbitro e diceva, va bene, quello che è successo l'anno scorso, vi ricordate Fiorentina Inter? Stavo dicendo Fiorentina Inter, non so perché, ma Fiorentina Inter, che è successo lo scandalo sul fallo non fallo di D'Ambrosio. Un altro, io ho amici alla Gazzetta, amici che lavorano giornalisti e alla Gazzetta dello Sport, dovrei mandare un messaggio, oggi proprio, per chiedere una cosa, qual è la media del voto degli arbitri al Franchi, all'Artemio Franchi, perché spesso durante la stagione succede qualcosa all'Artemio Franchi, a Firenze, alcune volte a favore della Fiorentina, alcune volte a favore dell'altra squadra, quindi non c'entra nulla a Fiorentina, è proprio l'ambiente che si viene a creare all'Artemio Franchi, che è difficile per l'arbitro. È successo per Fiorentina Milan, Fiorentina Torino, Fiorentina Inter l'anno scorso, prima giornata, Fiorentina e Napoli, l'arbitro è andato in tilt, Ancelotti che dice che è stato offeso tutto il tempo. Il Franchi è un campo strano, un campo abbastanza strano, sarebbe carino, davvero, devo mandare questa mail a questi amici miei, due, tre, e chiederò perché non fate qualcosa sugli arbitri, come arbitrano gli arbitri nei differenti stadi, c'è una differenza di punto? Detto questo, mi comincerete, se volete, imparerete a conoscermi, io non parlo mai di arbitro, di arbitro non è una cosa che mi piace tantissimo parlare dell'arbitro, perché ripeto, l'arbitro può sbagliare, così come può sbagliare il giocatore, l'allenatore, il portiere, il tifoso e il commentatore. Tutti possiamo sbagliare. Chi ha la VAR con la tecnologia è un po' meno giustificato. Detto questo, Fiorentina-Napoli, andremo anche a Juventus-Parma. Che partita è stata? È stata la prima, finalmente, partita di peso con i tre punti. Non credo che il Napoli abbia il portiere per vincere lo Scudetto, o la Champions League. Marete non mi è piaciuto completamente, non è Andanovic, non è Cesni e non è Donnarumma. E questo è importante, perché il portiere ti deve dare 7-8 punti in più per vincere lo Scudetto. La difesa è buona, ma buona ha preso tre gol. Buona, quindi per quanto buona possa essere, c'è Koulibaly, perché se gli togli Koulibaly diventa una difesa normalissima. L'attacco è veramente buono, l'attacco è spettacolare, spettacolare, fa spettacolo. Il centrocampo è un po' strano, perché con un attacco così bassino, veloce, deve avere un centrocampo tossente, pesante. Questo il Napoli non ce l'ha. Detto questo, il Napoli va a fare quattro gol a Firenze. È facilmente, dà sempre l'impressione di poter fare gol, e secondo me lo farà anche il San Paolo, quindi farà tantissimi punti. Se Ancelotti ha trovato un'alchimia che io non riesco a capire, Napoli può vincere lo Scudetto. Cosa ci ha detto la partita di ieri? La partita di ieri ci ha detto che il Napoli è più al Napoli di Sarri, più puro dei Napoli di Sarri, che alle squadre di Ancelotti, perché le squadre di Ancelotti ce l'avevamo sempre immaginati che fossero qualcosa di più solide, canoniche, la messa cantata. No, non è così, perché il Napoli non è completamente così. Si vede anche da una parte all'altra, il pallone andava da una parte all'altra con una velocità incredibile. Cioè, svarioni, svarioni, cambi di campo impressionanti. Se fa tutto il campionato così noi ci andiamo a divertire. A me piace, ci andiamo a divertire. Che vinca non lo so. Parma-Juventus. Cosa ci ha detto Parma-Juventus? Allora, io ho detto con tutto rispetto che non voglio parlare di Sarri, non parlerò di Sarri perché il momento per quest'uomo è veramente difficile, è il momento più importante della sua carriera e si trova con una polmonite, lui che è un fumatore. Non è facile a questo momento. Quindi, pieno rispetto, non dirò nulla per quanto riguarda Sarri. Per quanto riguarda la Juventus in sé, cosa ci ha detto ieri la partita? Ci ha detto una cosa, ci ha detto tante cose, ma una cosa in particolare. Che De Ligt non è stato utilizzato. Che il giocatore per cui è speso 90 milioni, 85 milioni, quelli che siano, non è stato utilizzato. Che tu, nel momento del bisogno, pensi che sia più solido Chiellini-Bonucci che Chiellini-De Ligt o Bonucci-De Ligt. Questo incomincia a far pensare un attimino a quello che può essere stato il mercato della Juventus, che è un mercato monco che deve finire. Perché è un mercato monco? Perché manca l'attaccante? Perché? L'attaccante ci sarebbe, potrebbe essere, c'era Dybala. Tutti vogliono vedere Dybala. Tutti sanno che Dybala è in forma, ma Ronaldo vuole giocare con i Guain. E qua c'è un peccato originale. Il peccato originale è quando Sarri arriva, sto parlando di un Sarri prima della polmonite, Sarri arriva e va a trovare Ronaldo. Come a dire, davanti a tutti, mondo, questa è la situazione, è il Ronaldo che comanda. La Juventus è Ronaldo. E io devo discutere con Ronaldo. Non con Nedved, non con Paratic, non con Agnelli, con Ronaldo. Quindi la decisione di aver messo i Guain, al posto di Dybala, secondo me viene da Ronaldo. Viene da Ronaldo e non solo. Lui sente questa irresponsabilità. Ieri, se avete visto, non era un Ronaldo che si diverte a giocare, vuole fare. Era un Ronaldo che voleva segnare, voleva dire a tutto il mondo, hai visto? Ho deciso io, ma ho deciso bene. E invece chi va a segnare? Va a segnare la Juventus. Chiellini. Chiellini è la Juventus. Chiellini ha vinto tutti gli scudetti. Chiellini ha lottato tantissimo per la Juventus. Chiellini è lo spogliatoio della Juventus. Chiellini, quando lo vedi là in campo, è tantissima presenza. E direi anche Chiellini è Conte, Chiellini è Lek. Non dico di più. Non ho detto che non volevo dire di più. Invece, è domenica, abbiamo visto le prime due partite. Che partite ci andiamo a vedere? Che andiamo a vedere oggi? Allora, io andrò a vedere, sicuramente farò le pagelle, su una partita che mi intriga già ancora quando ho visto il calendario, ed è Udinese-Milan, ma anche Roma-Genova. Roma-Genova io già l'ho immaginata, quindi spero di vincerci anche qualche soldo in Roma-Genova, ma a prescindere ci sarà Udinese-Milan. Non ho idea di quella che sia la formazione del Milan e quindi sarò già curioso di vedere. Ok, questa è la formazione titolare, la formazione ufficiale. Eccola qua. Dentro le meggi so che partite potrebbe essere, ma sarà una partita rognosa, carina, bella, divertente, con tanti spunti, non sarà noiosa per niente. Veramente, voglio vedere questo Udinese-Milan. Io sono interista, voglio vedere Interlecce, ma questo è domani, quindi. Voglio vedere questo Udinese-Milan un'altra partita abbastanza intrigante. Dovrebbe vincere la Roma, dovrebbe vincere qualche golletto di Zeko, non solo il Genoa. Non ho idea di come giochi il Genoa, ma secondo me è una partita aperta, una partita piena di gol. Così sarà spesso con la Roma. Farò le pagiole anche sul Roma-Genova. C'è Sampidori-Lazio. Io riesco a vederne due o tre contemporaneamente, però dopo di più mi piace. Ovviamente piace parlare di calcio, quindi mi piace anche guardare le partite. Sono contento, sono contento di questo campionato che è iniziato. Mi è dispiaciuto per questo problema con la VAR, però la partita a prescindere tutto a Fiorentina a Napoli è stata veramente divertente. Anche il primo tempo di Juve, dove il secondo tempo mi è piaciuto. C'era anche caldo. Dimentichiamo anche questo fattore. Comunque il caldo ancora e la condizione atletica ancora è un elemento abbastanza pesante. Detto questo, le pagelle stanno avendo successo, a prescindere da pagelle e tutto. Ragazzi, iscrivetevi, like, commento e condividete se avete voglia. Ma specialmente il commento ho fino adesso risposto a tutti. Quindi spero di continuare a farlo. Ciao, buona domenica a tutti e ci vediamo dopo per le pagelle di Udinese Milan e Roma Genova. Ciao, ciao, ciao.